Vinitaly 2018, siamo in un District of Beverage da Onesti, con Andrea Onesti, stand rinnovato. Beh sì, quest'anno abbiamo raddoppiato la superficie perché abbiamo un progetto che sta andando avanti molto bene, è partito l'anno scorso il nuovo progetto Vini e quest'anno è la seconda edizione di Vinitaly, ma avevamo bisogno di più spazio con anche un'immagine ancora più importante. L'uomo del vino, per Onesti è Nicola, di cosa ci parli? Vi parlo di questo progetto Vino che ormai ha un anno di vita, siamo partiti l'anno scorso con l'inserimento di otto produttori italiani nel nostro catalogo di distribuzione e quest'oggi, in realtà ieri, abbiamo presentato quattro nuove realtà italiane e non solo, come si vede qua, abbiamo anche presentato una piccolissima realtà biologica alsaziana che ci aiuterà a farci riconoscere sempre di più per quello che siamo, cioè selezionatori prima di tutto oggi. Quanto pesa il vino nel portfoglio di Onesti? Ma oggi è circa il 10%, quindi pensiamo che possa crescere parecchio, ci stiamo investendo tanto e nei prossimi anni vogliamo veramente farlo diventare un pilastro del nostro business. Voi avete sempre appunto una selezione, se dovessi dire una zona che vuoi selezionare per il futuro? Allora, una zona che vorrei selezionare per il futuro? Adesso io non vorrei fare torti a nessuno. Diamo qualche scoop, dai diamolo. Allora, il centro Italia devo dire che è una zona ancora un po' da abbattere, quindi amici delle marche, cercateci che potremmo eventualmente fare un discorso in futuro.